buonasera buonasera benvenute e benvenuti a storia elette volevamo dirvi innanzitutto una cosa oltre a salutarvi e con il piacere di avervi qui pagina elette e le persone che fanno vivere questo appuntamento di vicinanza e di cultura condividono appieno i valori di libertà e democrazia che animarono la lotta di liberazione dall'oppressione dalla violenza e dalla brabaria e per questo vogliamo anche dirvi buon 25 aprile passiamo a parlare di beppe fenoglio partigiano scrittore drammaturgo uno scrittore trascurato trascurato come fosse finito nel dimenticato che aveva scritto pagine memorabili e dalla sua esperienza di partigiano nacquero alcuni romanzi fra i quali il partigiano johnny di cui vi faremo ascoltare alcune pagine questa sera lui fu era nato nel 22 fu colto dalla dall 8 settembre dai fatti dell'8 settembre era a roma e torna subito nelle langhe che era dove poi ha continuato a vivere dove era nato era nato ad alba ed era il suo luogo il suo luogo il luogo della sua vita era affascinato in questa sua esperienza e inorridito al tempo stesso scopre la violenza e quindi cerca di spiegare ma in primo luogo a se stesso come l'uomo possa essere tanto spietato nei confronti dell'uomo gli episodi le sensazioni le parole che va registrando poi costituiranno il materiale in cui cercare a guerra finita la soluzione di un dilemma così affascinante ma anche così ripugnante perché lui si rende conto che la guerra è sempre dura sempre la violenza privata che gli uomini si fanno anche in tempi di pace e i duri rapporti umani per esempio di un mondo contadino segnato dalla miseria che imparò presto a conoscere altro non essendo il naturale prolungamento o l'anticipazione dei gesti estremi e di un conflitto armato cos'altro posso possiamo dirvi inizialmente lui allora il libro è in chiave autobiografica cioè lui narra le sue esperienze le esperienze sue della del periodo da partigiano lui era giorni diciamo per meglio dire giorni il protagonista di questa storia era seminascosto in casa sulle colline di torino molto protetto dai dai familiari che erano particolarmente spaventati però a un certo punto vedremo affiorare in lui la consapevolezza della del voler uscire da questa penombra e finalmente sentirsi vivo partecipare quindi si finisce al primo gruppo di partigiani che incontra nelle langhe che sono di formazione di ispirazione comunista poi in seguito ad un'azione disorganizzata che aveva causato anche notevoli perdite in di vite umane passa ai partigiani badogliani cosiddetti moderati di estrazione più borghese e militare è un'altra un'altra cosa lui oltre che appunto scrittore eccetera era conosceva perfettamente l'inglese fu anche traduttore nel corso della sua breve vita purtroppo è vissuto soltanto 41 anni è morto nel 63 e troverete ascolterete nel testo perché lui lo usa molto lo usa molto troverete nel testo delle molte locuzioni in inglese e cos'altro ancora sentirete anche come il suo italiano il suo italiano è un italiano molto 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 particolare ricercato con delle parole spesso desuete comunque vi faccio ascoltare soprattutto abbiamo scelto di farvi ascoltare di narrare la diciamo la prima parte del libro cioè la fotografia della sua situazione e poi la scoperta e l'avvio verso la vita della resistenza la vita del del partigiano quindi coglieremo un po questi suoi momenti e vedremo anche cosa accadeva nella città in quel momento è vero che una di queste sere sei sceso a casa degli zii hai fatto malissimo tu non ti devi muovere ci vuole pazienza ma non ti devi muovere pensa a noi che a casa pensiamo a te che sei qua e questo un po ci conforta nelle nostre preoccupazioni e tu invece io qui impazzisco e anche perché non vedo pericolo nello scendere un minuto in città non vedi il pericolo sei pazzo perché finora non è successo niente non vedi pericolo ma tante ne succederanno che non avremo mai più gli occhi asciutti e come credi che si viva in città per volerci tanto scendere in città viviamo come topi quasi non abbiamo più amici nessuno si fida più dell'altro non ci fidiamo più degli stessi carabinieri in servizio temiamo di incontrarli e facciamo un discorso contaci che c'è un argomento di spie i fascisti rialzano la testa sai che il figlio del federale e quello della dcat sono andati a fare l'allievo ufficiale in una nuova scuola fascista sai che l'avvocato l'avvocato e il suo figlio si sono arruolati in una brigata nera e tu hai visto i miei professori vengono a trovarmi non li ho più visti ma certo verranno non ho tanto piacere sinceramente che tu ti veda col professor corradi parla troppo senza precauzioni e poi tutti sanno che è comunista corradi comunista comunista ma che significava poi comunista all'infuori dei rapporti con la russia non ne sapeva nulla ora va si fa tardi e johnny guardò l'innaturale sera incombere sulla piana soffocando come uno spegnitoio tutti i riflessi sui tetti della città le colline naufragavano nel violaceo sì ma prometti a me e a tua madre che non ti muoverai più di qui se vuoi farti una sgambata hai la tua collina in un'ora intelligente johnny promise e guardò suo padre scendere con l'accentuazione delle sue congenite spalle curve per il sentiero per un freddo improvviso rientrò sentiva intorno a sé e in sé una carità una miseria per cui tutto lui era sottilizzato dipauperato spaventosamente ridotto rispetto a una normale dimensione umana e uno stimolo sessuale repentino e clamoroso giunse a complicare tutto portare tutto all'acme della crisi bisognava scendere in città anche per quello a costo di trovare tedeschi e fascisti nei polverosi salottini de modè la cosa gli appariva l'ercia ma irrifutabile in una livida squallorosità di intervento medico ciò enfiò la sua miseria umana lo fece apparire a sé stesso come un ributtante otre gonfio di serioso nulla colava a picco nella prescenza e previsione della sera della notte un accanito ma non vizioso fumare gli avrebbe rapidamente dilapidato la già minore razione di tabacco e l'insonnia per l'eccesso di sonno nella rehabilitation i pensieri sensati e vorticosi dello stimolo sessuale che certamente sarebbe rispuntato con una densa acrimonia si disse con violenza quasi sillabando a sé stesso ti ricordi quando eri soldato smaniavi per la mancanza di solitudine eri spesso al punto di vomito per la vita in comune ti ricordi i sogni che sognavi mentre ti facevano l'ordine chiuso o frag ti imbottiva la testa col meccanismo della mitragliatrice sognavi di essere solo e disangagé in una camera pressa poco come questa aperta alla vista del fiume e della collina e tradurre a piacimento un qualsiasi classico inglese ora esistevano tutte queste messe e possibilità le armi, gli uomini collettivi lontani oltre le colline, oltre il fiume, nelle grandi città fantomatiche nelle immense pianure nebulose e abbrividenti ruppe la promessa una sera di ottobre la tetraggine sulle colline da sfuggirsi come un colera scese sulla città come un assalto di sorpresa scegliendo nel buio l'accesso più anormale e sicuro appena al limite della città un'ombra più nera si stagliò nell'ombra uniforme gigantesca e Johnny stascò le mani ma il colore voleva semplicemente fuoco Johnny gliene diede, scostando la faccia dall'alone della fiammela per non essere visto e non vedere e così vide, ai piedi della scarpata ferroviaria un fagottone mobile e guizzante una donna, guizzante nel primo freddo quell'informe macchia, l'attescente gli diede un tremendo malessere ma egli filò diritto lontano dal quartiere dei postrivoli le strade erano rigorosamente deserte rigorosamente oscurate per quanto competeva gli uomini soltanto la postuma luce del cielo traeva dalle selci lividi riflessi marciava rasente ai muri così sentiva talvolta fuoriuscire dalle case sigillate voci stanche, talvolta disperate pur nella soffocazione sempre con un gracchiare neurotico come puntale fuggendo per la piazza vide un attimo la sua casa con dentro i suoi ignari e fidenti genitori accelerò fortemente per strapparsi al cordone ombelicale del rimorso per togliersi di un colpo dagli occhi la facciata della sua casa così precaria come franante nella tenebra johnny scese ancora in città e sempre tempo alla nascita esatta della notte una di tali notti fu irresistibilmente attratto dal cinema e ci entrò con un certo qual presentimento proiettavano la venere cieca con vivian romance ancora in sexy shape affiancata dalla faccia meteca e seriosa intollerabile di george flamand il locale con la solitaria di scadimento proprio di ogni esercizio con una frustatezza polverosa persino sullo schermo era pressoché deserto e negli intervalli di luce i radiastanti si guardavano frowningly l'un l'altro come a rimproverarsi reciprocamente quella follia del cinema sottopena del bando di Graziani johnny sedeva in galleria alto sulla platea rada al punto in cui smuoiono insieme il fortunale e la furia sessuale del capitano flamand ci fu nel vestibolo un disperato stamped un soffocato e disparato fiatare una voce secca di imperio e di ferocia qualcosa come la sorda esplosione di una repentina violenza uno spettatore si alzò con un rumore immenso gridò ai fascisti che erano irrotti a rastrellare e si abbatté contro un muro contro una sbarrata uscita di sicurezza durava quel rumore nel vestibolo ma essi ancora non i rompevano in sala disegnata da quelli che già avevano infilato le uscite di sicurezza che giù esistevano e johnny pensò in agonia alla fatalità di aver scelto la chiusa sbarrata galleria anziché la salvatrice platea gli altri smaniavano contro i muri e la porta che resisteva rimbombando i loro colpi l'operatore aveva tagliato la pericola senza dare luce in sala johnny si trovò a ridosso del parapetto sulla lontana platea che la deveva la morte fra le sedie ma era deciso a buttarsi piuttosto che a lasciarsi prendere aveva scavalcato il parapetto ed era precipite sulla platea orribile e salvatrice con la sua spaventosa bocca di denti di ferro e pietra e legno ma non staccò le mani dall'ultimo ferro perché non erano i fascisti solo qualcosa come un tentativo di furto alla cassa tutto ciò che era repentino proditorio esplodente con urla era fascista johnny uscì dal cinema di corsa vedendosi mortalmente pallido prese per la collina iroso con se stesso remorseful verso i suoi genitori per tutto il tragitto frantumando mentalmente il corpo di vivian romans che ora gli appariva una sporca illecebra fascista per la perdizione non sarebbe più sceso in città pensava salendo alla collina nella notte violetta se lascerà quella collina sarà soltanto per salire su una più alta nell'arcangelico regno dei partigiani la pistola l'aveva pure a sentirsela piatta e così magistralmente giata nella tasca interna non si sentiva affatto addizionato e la sentiva estranea ed irritante non già l'arma monoblocco del suo sogno per le strade semideserte ed uggiose ora la gente conoscente non lo fissava più lui come gli altri sbandati o renitenti con la recriminazione premurosa ed amichevole della prima volta ora lo fissava con l'aria di chi ha capito ciò che vuole purché lontano e fuori di me andava pensando solamente al posto in cui occultarla fino al grande giorno essendogli del tutto estraneo il pensiero e forse la capacità di doverla usare adesso al primo angolo camminava comunque con un nuovo sentimento un sentimento di diversità da tutti quanti incontrava con mille probabilità nessuno di quelli viaggiava con una pistola sul cuore il cuore pulsante come attonito contro la sua piatta e gelida superficie e gli pareva che questa astratta e ascosa durezza della pistola e la sua fatalità gli si dovessero riflettere nel passo e nel viso doveva apparire diverso ma poi come la sveglia coscienza gli ricordò che si trattava soltanto di un trasporto di un'arma da un luogo all'altro di nascondiglio la diversità gli svanì come una luce smorzata ed egli apparì a se stesso grigio e passivo come il riflesso di tutto un pomeriggio tardo novembrino l'indomani di prima mattina johnny salì alla soffitta sottotetto a seppellire la pistola il cervello sickening dell'immaginare il tempo che ci sarebbe rimasta sepolta in fondo poteva pensare di sparare e uccidere uomini bianchi ma la cosa gli costava un tremito di coscienza che finiva a influire negativamente sulla mira allora passava ai peli rosse e ai neri d'africa ma la cosa non era ancora perfetta si metteva a posto soltanto con l'applicare ai rossi e ai neo assaltanti più vistosi atroci war paints ma ora è questione di bianchi si disse mentre riponeva la pistola avvolta di bambagia in un incavo di una travata e mascherava il ripieno senza apprezzione anzi con un certo qual diletto ispiratogli dalla fantasia arredativa ma tutto gli era avvelenato dal pensiero di star seppellendo una pistola da servirgli chissà quando qualcosa accadde molto presto nei primissimi giorni di dicembre anche se fu un qualcosa di mezza diplomazia e mezza violenza tutto accadde in quei momenti sonnolenti e nevrotici insieme nella cubica chiusura della città in parziale applicazione del bando di graziani un forte nucleo di armati repubblicani arrivarono all'improvviso da cuneo per prelevare i renitenti alla leva che non siano nemmeno degnati di rispondere al bando nella loro scontata ed accurata assenza nella disperata necessità di non lasciar correre con tutte le mani conseguenze future estesero la responsabilità politica dei renitenti lontani ai loro genitori in casa e con l'aiuto di torvi e atterriti carabinieri trasportarono i familiari al carcere mandamentale dozen of them rimanendo poi in attesa dell'inevitabile risultato della pressione psico sentibile nelle prime ore del pomeriggio i repubblicani lasciarono la domesticata città lasciando il mandato di custodia ai carabinieri locali rinforzati da un nucleo staccato da bra verso le 6 arrivò alla casa di campagna un biglietto vergato nella elementare atarassica grafia della madre di johnny assolutamente non muoversi non scendere nella città atterrite pur ribollente i carabinieri atterriti e pur dorissimi pregare la zia di ospitalità senza termine johnny scese immediatamente in città nell'ombra serotina nell'eccitazione dell'accostamento alla grande e misteriosa scatola dell'agitazione l'alberatura della circonvallazione si squassava innaturalmente con un suonaccio di bufera sentì dietro di sé un precipite passo sull'asfalto e ruotò verso di esso era luciano fuggito di casa anche egli alla ricerca del riacquisto della sua misura di uomo gli fu in un attimo al fianco silenzioso determinato e fedele gli altri avevano rotto le regole del gioco tutto un codice secolare si scendevano a vedere a protestare a cancellare le strade periferiche erano assolutamente deserte mute ma dal centro della città filtrava un brusio grillante pur estremamente cardiaco ed era misterioso e cardiaco il senso di duplicare le dei fascisti sui selciati cittadini la coscienza dell'inevitabile azione di forza già li possedeva interamente fibrosa rasserenante indurente johnny smaniò al pensiero della sua pistola sepolta recuperabile soltanto dietro lo sbarramento minaccioso e lagrimante dei suoi familiari il cugino disse io ho la mia pistola d'ordinanza nelle strade del centro un movimento topesco guizzante schermistico di gente tutta giovane vi si amalgamarono nessuna faccia nota in particolare ma tutti i giovani e cittadini ce l'avevano coi carabinieri sui quali rovesciavano ora tutti gli epiteti e gli insulti della tradizione popolaresca aggiungendovi un nuovo infinitamente più pesante traditori quasi tutti avevano un'arma pistola e pistoloni modernissime catenacce qualcuno presentava sul dietro la deformazione bubonica della bomba a mano era inebriante l'intesa immediata un'intesa del sangue al di sopra degli odi il più anziano fra loro ben sotto i 50 anni a ogni modo mentre tutti gli altri già plant per l'attacco al carcere la liberazione con le buone o le cattive dei familiari incarcerati continuava a maledire i carabinieri con un congenito odio per tutte le polizie ma con un allegro carattere di orlio in fiera parlavano tutti insieme eppure tutto miracolosamente confluiva in un rapido perfetto chiaro accordo i più erano armati di cimeli di famiglia o della terrosa eredità della quarta armata in fuga torrenziale spuntò in piazza il comandante il corpo civico grasso iperteso estrabico plantigrado sui suoi ciabattanti gambali tutti fregi rilucenti nella calante notte alzò una mano e disse con la più paterna delle voci scioglietevi ragazzi ragazzi date retta a me scioglietevi non è un ordine si capisce è un consiglio da padre di famiglia tornate a casa ragazzi gli rispose una risata generale di piena ilarità appena percorsa da qualche vena di acredine ma l'uomo traballò sotto di essa il santuomo delle multe al football il principe della polizietta urbana frapponeva la sua divisa petti come uno stop che avrebbe decisamente sputato sulle greche dei generali l'offesa gli rafforzò voce e gli ristabili un po la tottering figura gli suggerì un mezz'ordine al posto del dichiarato consiglio ma allora dal notturno gruppo uscì un ragazzo certamente un ratto dalle case popolari quel misto di lazzaretto e di casba sul maleodorante torrente prolungato in avanti da un incredibile pistolone ottocentesco che all'alzo del cane diede un clic esagerato agghiacciante il piccoletto glielo puntò al centro dell'epa official gli ordinò il dietro front pistolone alle reni fino ai portici del municipio e lo ficcò nel corpo di una di guardia di un pa remembrance e guai a te se rifichi fuori il naso tutti risero secco e breve ora era la volta dei carabinieri marciarono sulla loro caserma senza mai voltarsi della meravigliosa indifferenza al numero di sé la gente si sporgeva da usci finestre irresistibilmente scacciati da un argomorboso e volontario che datava dall'otto settembre da ogni uscio giovani confluivano nel grande collettore anziani approvavano con un gran silenzio altri consigliavano prudenza e astuzia con voce prudente e astuta nella piazza principale altri gruppi avanzavano dai quattro oggetti cardinali confluivano e si coagulavano con una silenziosa sincronia il ragazzo che si accostò a gomito a johnny spallava una carabina da gaccia da caccia di gran pregio e johnny smaniò per la sua pistola assurdamente occultata tenevano tutti ma tutta l'ultima strada precedente la caserma con una compattezza elastica gli estremi radendo i vuoti sfiorando i volti delle donne affinestrate occhieggianti sessualmente eccitate il ragazzo il primo fra tutti marciava brandendo un megafono la caserma stava incastonata in un compatto isolato ma ora appariva come la più solitaria costruzione al mondo una fortezza nella sua nera sigillatezza e la sua ombra tetra si proietta nettissima immagabi frazionamenti sulla strada bianca di luce decembrina si disposero tutti di fronte compressi e imbottigliati nei quattro metri della strada bloccata subito al fondo dall'associata dello sferisterio prendendo consolidando il suo posto o foot holding johnny pensò che se i carabinieri nell'impedo dell'odio e della paura avessero rafficato sarebbe stata una strage e lucia lucia lo disse a voce alta adulta senza incrinature ma nessuno commentò si spostò ognuno in quella culzaccata falange intanto il ragazzo sconosciuto aveva già imboccato il megafono imboccato il megafono alzandolo come un'arma contro il cancello fitto che recingeva prima che la facciata della caserma il suo front garden un assurdo e inattendibile vezzo verde sulla facciata atruce carabinieri la voce rimbalzò contro i muri e le grate delle finestre più letale e atterrente di una scarica a bruciapelo il megafono ingrossava la voce del ragazzo la snaturava in potenza ma un perfetto silenzio isolò e fortezzò ancor più la caserma carabinieri reali ancora non venne risposta ma dalle grate cieche si potevano indovinare le armi brandeggianti come rami al vento carabinieri parlo con voi io so che voi mi sentite carabinieri vogliamo soltanto liberare i carcerati dateci le chiavi della prigione o telefonate ai secondini non vi sarà fatto alcun male a voi carabinieri è stata una porcheria dei fascisti voi lo sapete quanto noi e noi vogliamo soltanto annullarla avanti carabinieri dateci la risposta che aspettiamo nulla ancora nulla finché un ragazzo si spazientì sfiondò una bomba a mano al di là del cancello mirando alla facciata ma cadde prima e folgorò in un anore rosso un giovane ciliegio del giardino che comparve attimico come ai raggi x allora da un mezzano della caserma parte una mitragliata monitoria alta che si spiaccicò contro la lontana muraglia dello sferisterio un uomo strappò il megafono al ragazzo svicolò al riparo del muretto di cinta brandendo alto il megafono come un periscopio la sua voce era adulta e nemmeno lo snaturamento del megafono la privava della sua congenita dialettica della sua diplomazia nativa carabinieri voi volete segnare il vostro destino la mitragliatrice non ci ha fatto né caldo né freddo noi non siamo ragazzini siamo partigiani partigiani della montagna scesi in città a cancellare la macchia abbiamo mitragliatrici anche noi carabinieri e cannoni e autoblinda se ci costringerete ad attaccare la faremo finita in un minuto ma allora poi non avrete più scuse capito carabinieri siamo partigiani tra noi vi sono anche carabinieri vostri commeditoni fini e si voltò con una faccia ansiosa stupendamente richiedente giudizio del blef si sentiva crocchiare il silenzio l'elettrico friggere degli atomi del silenzio poi si udì uno scatto alla porta della caserma e ne uscì una figura invisibilizzata quasi dalla stessa intensità della luce lunare brandiva una torcia elettrica se ne irrorò tutta la persona per esibire la sua uniforme di ufficiale avanzò nel cancello nel disperato crocchiare della ghiaia l'uomo del megafono gli mosse incontro poi si udì parlare indecifrabilmente ma duro quando l'ufficiale fece mossa di puntarlo con la torcia elettrica lo si vide trattenere rudemente l'ufficiale quando questi si avviò verso il gruppo le loro parole giungevano secche ma incomprensibili come folate di vento di palude non dovette raccordarsi perché si scostarono oppostamente con un ritmico passo di preduellanti l'uomo tornando disse a voce altissima tutti pronti fate avanzare l'autoblinda alla crisi del blef i carabinieri si arresero i ribelli invasero il giardino i carabinieri senza armi visibili indosso si disposero con un'affettata indolenza contro il muro della caserma accendendosi sigaretti con mano irosa e malferma in un minuto a quei chiari sigaretta si avvidero che non si trattava di partigiani veri dalla montagna ma di ragazzini per lo più ragazzini contravenzionali da sgomentarsi e scompisciarsi con la faccia feroce e la voce grossa armati di ridicoli cimeri di famiglia allora abbassarono e tennero la faccia sul petto ma non bastava a mascherare la vergogna e il livore il cociore del blef johnny che aveva rischiato la loro sorte di salariati difensori dell'ordine si reindurì a quell'impudico rivelamento ma intervenne quando uno dei suoi un uomo un uomo oltre 30 anni attaccò un carabiniere come tutti gli altri fumante e gli infrisse un pugno e un calcio lascialo glieli ho dati per mio padre questi te li ha dati mio padre e che ha fatto a tuo padre già che ho fatto io a tuo padre lamentò il carabiniere tu niente ma altri carabinieri carabinieri come te l'arrestarono per un furto non commesso da lui e per farlo confessare lo picchiarono sul petto con sacchetti di sabbia da allora non finì più di tossire fino alla morte la cosa pugnalò johnny facendo la parere se stesso come un uomo non fatto di carne e di sangue ma fatto come un compensato di fibre di fogli di libro ma non c'era già più tempo il grosso si avviava alle prigioni con un nucleato in esso l'ufficiale e tre carabinieri l'ufficiale marciava come cieco come necessariamente fidandosi della guida del gruppo in cui era solidamente incorporato e già ansimava sonoramente fin qui tutto era parso come un fatto comunale uno suolo di ragazzi di una data città aveva fatto il diavolo a quattro unicamente per rimediare a una porcheria consumata in detta città ma le metà della strada alle carceri intonarono con prodigiosa spontaneità e sincronia l'inno di mameli come per annunciarsi da lontano ai carcerati e ai secondini dopo un tratto anche i carabinieri si unirono al coro ma forse muovevano la bocca senza suono intasarono il budello tra il carcere e la chiesa contigua continuando l'indo udendo l'inno udendolo riprendere ripetere dentro le muraglie mentre l'ufficiale bussava al portale imbullettato i secondini non si persuadevano nemmeno a riscontrare l'ufficiale allo spioncino pensavano di dover interpretare a rovescio ciò che diceva l'ufficiale sotto la pressione delle pistole l'inno smorsò rantolosamente le prelegole a un urlo di insofferenza i secondini aprirono ranicchiandosi poi ai lati per non essere travolti le dozzine di carcerati erano già aggolati nel cortilaccio e per le scarpe le scale per il riprezzo delle celle e la loro insufficienza si abbracciarono e si baciarono contro il muro salnitroso e maleodorante uno parlava doveva essere fatto bene ma ci saranno conseguenze i fascisti non possono sorvolare dobbiamo aspettarci una rappresaglia in grande stile nel giro di 24 ore all'ufficiale non possiamo far niente ma puoi giurare che rientrato in caserma si attacca al telefono e fa la sua brava relazione ai fascisti è meglio per tutti andare a dormire collina o almeno cambiare alloggio e restare invisibili per tutta la giornata di domani la mattina tutta la città parlava del fatto di forza della sera prima e come se prevalesse la soleticata fantasia tutto il merito e la responsabilità venivano riversati su autentici per quanto fantomatici partigiani dall'alta collina effettivamente muniti di autoblinda e capeggiati da ufficiali delle truppe alpine fra i quali un tenente johnny tu c'eri domandò sua madre ma con appena una punta di interrogazione johnny sventola una mano per significare la levità del suo intervento il suo scetticismo sulle conseguenze busso in quel punto l'usciere principale del municipio un uomo di vecchia scuola ecclesiastica molto abile e prudente e bilanciato che non aspettava che la fine di tutto per rientrare la sezione del partito popolare voleva parlare col padre di johnny ma non aveva difficoltà a parlare in presenza di tutta la famiglia una così distinta e ammirevole e sventurata famiglia disse che dovevano attendersi rappresaglia per il fatto della sera ed egli sapeva che la rappresaglia si sarebbe tradotta nella simultanea cattura con ostaggi a tempo indeterminato di una ventina di persone cittadine la lista era stata redatta e consegnata a chi di ragione dal vecchio avvocato fascista cerutti prima di arruolarsi nella lontana brigata nera in cui ora rinverdiva tutto era predisposto egli conosceva allora in cui si sarebbero mosse le varie squadre dal resto va bene e grazie disse pacatamente il padre di johnny lei è quinto della lista disse allora l'uscere ma con una voce minimizzante io mio marito mio padre e perché socialista io mio marito socialista johnny ebbe un attacco di riso isterico ci abbordante suo padre socialista non andate in crisi per amor di dio non è una sciocchezza ma nemmeno una tragedia date retta a me fate il piccolo sacrificio che vi consiglio andate tutti e tre in collina nella villa dove è riparato vostro figlio dopo l'otto settembre essi tre sollevarono la testa insieme per quella sua nozione si spiegava col suo essere l'uomo della curia può darsi benissimo che dobbiate restarvi ci non più di una settimana chiudete bene la casa io prometto di passarci una volta al giorno a vedere che non sia successo niente a luna pomeridiana erano già in collina dopo un viaggio quieto e faticoso punteggiato soltanto dalle preoccupazioni finanziarie di sua madre i nostri soldi se ne vanno più in fretta del previsto disse suo padre i soldi si rifanno la pelle a nessuno è successo di rifarla disse johnny non datevi pensiero dei soldi a cose finite io lavorerò e per l'estate dovrebbe essere tutto finito la villetta aveva un'aria nuova in selvaticida tutti intorno integralmente normale andarno prestissimo a dormire johnny aveva detto che rimaneva un poco a leggere ma quando ogni rumore si spense upstairs scostò il libro per scrivere una lettera era principalmente intesa per sua madre per gli ultimi movimenti si fidò del suo passo felpato rigorosamente muto un suo dono coltivato tutto andò bene la pistola già sul petto ma monoblocco ora come un muscolo incorporato già gente solo le scarpe da neve andò a infilarsene fuori nel vento urlante e ubriacante partì verso le somme colline nella terra ancestrale che l'avrebbe aiutato nel suo immoto possibile nel vortice del vento nero sentendo come grande un uomo quando è nella sua normale dimensione umana e nel momento in cui partì si sentì investito in nome dell'autentico popolo d'italia a opporsi in ogni modo al fascismo a giudicare a decidere militarmente e civilmente era inebriante tanta somma di potere ma infinitamente più inebriante la coscienza dell'uso legittimo che ne avrebbe fatto e anche fisicamente non era mai stato così uomo piegava il vento e la terra erano le quattro pomeridiane johnny stava sulle alte colline funerea nella coltre della neve chiazzante lebra arsenicale murazzano stava in fronte a lui oltre le langhe non intendeva procedere per non rompere l'ambito atavico e fino a murazzano non aveva incontrato partigiano né ombra né orma esistenti sì ma astratti come il polo nord il vespro precipitava e la stanchezza la salì con una presa proditoria e logica viaggiava dalla mattina piedi sul neve e lastro ghiaccio salvo un breve tratto sulle medie colline in corriera una mobile capanna di miseria e di gelo poi nuovamente a piedi verso le top hills i pochissimi che incontrò per strada uomini che la costante pericolo e differenza ingerita rendeva aspri camminanti come lui col mento annidato nel petto ridurre il bersaglio e il sadismo al vile vento già loccheggiavano come se già riconoscessero in lui il partigiano a un certo punto sulla corriera non erano rimasti che in tre johnny l'autista e un carabiniere anziano l'autista non era più evoluto e cosciente di un antico carrettiere il carabiniere era un uomo tarchiato e moroso visibilmente ostentatamente inerme con una barba di parecchi giorni e gramignava le solide guance non si dissero parola l'un l'altro le quattro ribatterono al campanile di murezzano lo scottava dentro e poi lo raggelava pensare che la sera del suo fatidico giorno di ingresso nei partigiani avrebbe bussato ad una locanda per il pernottamento non ancora partigiano ma ancora miserabile viandante qualunque ma ha girato il progetto vide subito un grosso fabbricato cubico su un'ampia rotonda di cemento sgombra da neve identico a tutti i granai del popolo d'italia sulla rotonda un autocarro sotto carico swarmed about da uomini uniformati armati uno solo di essi attento con felina indolenza alla strada di johnny questi erano partigiani non lo trasse in inganno il prevalere del grigio verde nelle loro rimediate e composite divise anzi qualcuno di essi vestiva in completo grigio verde ma non era il grigio verde fascista questi erano partigiani johnny scattò verso di loro con tanto slancio che insospetti l'uomo rivolto alla strada era in completo grigio verde miserabile quindi come un comune soldato del reggio esercito in critiche condizioni ambientali con la miseria i patemi della sua vita partigiana imprimere una matusalemmica vecchiaia sulla sua faccia semisepolta nel frusto passamontagna era una doma preda del freddo e johnny notò che a spallarsi il moschetto e a coprire johnny impiegò tempo bastante a restarne ucciso tre volte fosse stato un fascista gli diede il chi va là e fermo là con un accento così disperatamente siciliano liberantesi dai suoi denti come dalla meccanica stretta di una macchina per maglieria che johnny se ne risentì stupì e accorò incredibilmente tutto aveva da essere così nordico così protestante la perplessità gli costò un secondo e più vibrato avviso mentre alcuni degli uomini caricanti si voltarono pronti a sostenere il compagno voi siete partigiani disse johnny senza la minima inflessione interrogativa dovete dare un sunto di se stesso in quella elettrizzata atmosfera e mai forse gli era riuscito di essere più conciso ed esauriente voglio entrare nei partigiani con voi i uomini si erano rivoltati al carico gli uomini del nord avevano tutti un aspetto operaio o contadino quanto ne traspariva dal loro intabarramento tra rurale e sciatorio e tutti armati ma miserevolmente voglio entrare nei partigiani con voi mi fermo qui spero di avervi incuriosito e invogliato alla rilettura di fenoglio e degli altri suoi libri alcuni dei quali trattano della sua esperienza nella guerra partigiana vissuta appunto in prima persona e vi ringrazio naturalmente per averci seguito anche questa sera e vi do appuntamento a domani domani vi faremo ascoltare di gabriel garcia marquez provate a indovinare voi cosa potrebbe accadere domani ma cent'anni di solitudine ora buona serata a domani grazie a tutti